Ok, non li va. Che expedition saltiamo che non sappiamo nemmeno che fa. Andiamo a parlare con il tizio e il tizio ci dà una missione? Può essere. Perchè? Perché ti faccio? La città, le storie, tutto? Per i bici? Non sono così. Non c'è qualcosa di questo. Non c'è nessuna cosa. Non c'è nessuna città, non? La gente veniva da ogni corner di Bastion per vedere. Ci sono le nostre storie. Ci credono in noi. La gente non cambiarono. Ci vedono il lavoro che si sono fatto e arrivano. Ovviamente ci vedono. Ha, ha, ha. Ah. Cosa è? Il mio amico, il che mi perdonato. Lo che mi perdono, posso sentire il dubbiamoci. Il potrebbe essere un'escalante, ma io potrei farlo. Tu diceva che era un'azbattante? Sì, Garnet. Un'azbattante Garnet. Mi aiutato a chiedere il chiamato, tu sai. Il si è un'azbattante. Ma è un'azbattante. Ma è un'azbattante. È un'azbattante. È un'azbattante. È un'azbattante. È un'azbattante. È un'azbattante. Un'azbattante. Oh, andando a alcuni report, adesso. E come dici tu, vabbè, quello che vuoi aspetti. Allora, cerchiamo delle missioni. Allora, un minuto controlliamo se... nel giornale. Tombo of legendaries se c'è in giro altra gente mi dà le missioni il va a procurare opportunità noi lavoriamo ora per assicurare che non li ha mentre io vedo i nostri spagnoli tu sembrava assicurato? hai avuto? partiamo Non c'è che non ho visto se a Freemark ci sono ancora le lucette di Natale, però dai! Pure io, basta che mi date le direzioni, eccolo qua, non c'è n'è di che, se piove non si dovrebbe riscalda così tanto sta cosa comunque, per dirlo, prima che sta cosa si sorriscalda, amici non ne credo, per ora! Facciamo precedere da uno sbarramento Stava a sparare una sentinella, che cazzo spara? Quindi quello lì stavo... Vengo qui direttamente a casa vostra, a domicilio, devo impedire che il controller batta sul tavolo, poi gioco le mani altrimenti è un bordello... Che sparò le sentinelle? Che devo riparare? Ah, i generatori Che vado verso i generatori va Dai dai, fatto Ah, sentinelle di merda non si riconoscono gli altri però eh! A mia parziale discolpa ci terrei a dirlo Ok, mi servono le punizioni Ok, sparo con colpi più brevi 20 e un disastro 20 e un disastro Ok, io entro di ruins Vado Ecco, se proprio c'è un difetto, i caricamenti Sono proprio frequenti Ok Da sopra ormai C'è sempre la miniera in tutti i giochi Oh! Maledizione Oh! I testoni di... Starship Trooper Che non mi parte? Buona partita Fa un culo Beh La cazzo stanno stai i scorpioni però Non so come annullare le... Le abilità Eh Niente qua non mi fa andare Eccoli Oddio, non sembra Iron Man come dicevano quelli su Reddit Potrebbe Però No E' cheap pensare a Iron Man Scontato No No Iron Man Ma si cammina davvero un casino in sto giochino comunque Ok cerchiamo... cerchiamo sto... Dove sono andato a finire gli altri Anzi il Freelancer devo cercare Perfetto Tutto sto giro è spreco carbonante Però che bello sto gioco Almeno nelle visuals Oh! E' bello! Me lo vuoi dire così questo? Questo mi è spuntato addosso Vabbè Lo roll li faccio fuori facile Però non me l'aspettavo sinceramente Ok Vedetevi qui C'è C'è Ok Via Oh All'arma ho un po' ragione colpi Vai Tutti Tutti E' questi Via con gli ieri va Sopra io lo teste Per guadagno posizione Scendere Allora figata di sto gioco che si possono usare tre dimensioni per combattere Ho tirato fuori giù lui Ah io ho tenuto in alto questo Ho tenuto in alto questo Per questo intendo il Il cazzo di Stick Un'altra cazzo che devo fare Che voglio fare assolutamente Forse togliere il Force feedback Quante cazzo ne arrivano? Uh l'ultimate Mi ero dimenticato che avevo l'ultimate Mi ero dimenticato che avevo l'ultimate Sembra ancora chiudo nemmeno uno di sti Scar caches Cosa ci muoio? Che cazzo sia questo? Non ne ho idea Soprattutto come si chiudono sti cache Che io mi muovo che sembro Un carro armato però Allora uno è qui E' qua sopra Ok lì Forse ho capito che devo fare Posso resistere ancora Ancora e ancora e ancora Ok Ok Guarda di qua Oh Ok Allora Ragazzi è davvero difficile Ve lo dico Uno non far fare rumore Allo stick Ok ora Va vicino Che qui probabilmente senza L'armor di sto coso non avrei mai resistito Dio che inferno Ok se reggo ancora un po' L'abbiamo fatto L'abbiamo fatto Dove siete? Davvero? Ancora Diciamo che sbattere contro Gli edifici E' una mia particolarità Dove può sta questa? Ah Arrivederci Scars Portiamoglielo up Close and personal Pecca di questo Ok Se bombe il cazzo danno Avvero fastidio A quelle qua Ok Localizzato il freelancer Ora Che bello il monumento lì Non l'avevo visto Ok dove altri ce ne sono? Sono diventato abilissimo questa Con la combo delle mie armi Ma questo è il freelancer Che cazzo stanno gli altri? Qua dietro? Forse Andiamo Sbagliato? Sbaglio io Cosa ho sbagliato? Allora devo tenere più alto questo Se mi giro Ovviamente lo metto in difficoltà Oh Mi ha scattato malissimo questo Davvero scar leader? Ah Ah Ho sbagliato Ok Oh Questa sarà dura adesso Perché mi stanno attaccando da sopra Se non l'avevo considerata come Ok Ho tirato giù Ed è finita Dai cazzo Allora 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 Allora